Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui, sono Carlo Montala. Volevo dirvi che è uscita la compilation di Rock Targato Italia. E dove la potete trovare? Su Web Store o su Spotify? È una compilation che, oltre a grandi artisti, raccoglie anche tutti i vincitori di Rock Targato Italia. Io vi consiglio di prenderla, è un bellissimo regalo. E poi potrete ascoltare della grande musica, perché ci sono artisti come Omar Pedrini, come Zibba, Ivalanzasca e altri giovani che meritano di essere ascoltati. Credetemi. Vi faranno passare delle ore, dei momenti bellissimi, dove potrete continuamente sognare. Perché sono veramente dei grandi artisti. Ci conto, eh. Ciao a tutti.